Il giorno dopo la conferenza stampa del Movimento 5 Stelle sulla necessità di salvaguardare meglio la salute dei bagnanti attraverso ordinanze più severe sulla balneazione, l'intervento piccato del sindaco di Pescara Carlo Masci. Aveva già risposto per le rime ieri l'assessore regionale al turismo Morofebo, parlando di ingiustificato allarmismo rispetto a dati estremamente confortanti sulla qualità del mare. Gli fa eco il sindaco di Pescara che parla di estremazioni inopportune in un momento in cui, tra le altre cose, le analisi parlano di qualità buona e poi spiega il motivo per cui non ha ancora firmato l'ordinanza che toglie il divieto di balneazione. Andare oggi a fare degli interventi di questo genere sollecitando divieti di balneazione permanenti in zone che stanno notevolmente migliorando per quanto riguarda il discorso delle acque mi sembra assolutamente dannoso per la città ma per l'intera regione. Quindi io invito i Cinque Stelle ad occuparsi delle cose più importanti che sono negative ad oggi e che invece non vengono assolutamente prese in considerazione. Il mare di Pescara è un mare che sta notevolmente migliorando, è tutto balneabile ad oggi. Su Via Leopardi c'è il divieto perché burocraticamente deve esserci ancora fino a quando la regione non sbloccherà la situazione. Io invito la parlamentare di Cinque Stelle a venire a fare il bagno insieme a me a Pescara perché io domenica ero al mare e c'era un mare favoloso come tutti i cittadini di Pescara hanno potuto constatare. Aggiungo che stiamo lavorando molto per migliorare totalmente le condizioni e Pescara fra un anno, un anno e mezzo o due avrà sicuramente un mare che potrà puntare alla bandiera blu.